Aggiornamento di Sceldanni del Per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 14 febbraio 2012. Drazzo. Torniamo. Molte cose stanno accadendo dietro le quinte in questo giorno, che il vostro mondo dedica all'amore e al romanticismo. Le sacre società segrete d'Oriente e di Occidente si sono riunite per elaborare un piano, per sostituire i maggiori governi del vostro pianeta. Come saprete, il cambiamento più delicato riguarda il regime di fatto degli Stati Uniti. Questa corporazione illegale ha governato ufficialmente l'America fin dalla guerra civile degli Stati Uniti, con lo scopo principale di collocare le più importanti famiglie di banchieri, e di loro alleati, in posizioni di potere assoluto. Ogni presidente successivo a Lincoln, ha dovuto piegarsi a questi malfattori e dalla loro agenda comune tesa a subordinare la politica interna ed estera degli Stati Uniti ad ogni loro capriccio. Questa minaccia alla democrazia americana è stata sostenuta da una massiccia opera di corruzione, attraverso tangenti e numerosi omicidi. Questa criminalità senza vergogna deve ora cessare ed è la principale ragion d'essere delle trasformazioni radicali, che porteranno ai governi di transizione. Gli oscuri burattinai dovranno essere smascherati, arrestati e trascinati in prigione, e i conseguenti processi riveleranno la reale portata di quanto era previsto nella loro perfida agenda nei confronti dell'umanità. L'intento prevede ora, che questi governi di transizione facciano da ponte tra l'attuale situazione di crisi mondiale e gli elementi, che costituiranno le fondamenta della vostra nascente società galattica. Abbiamo avuto colloqui approfonditi con coloro che rappresenteranno questo nuovo modo di governare, visto che siamo molto interessati a come intendono mettere in atto i numerosi programmi iniziali previsti, non appena verranno annunciati come i nuovi leader dell'America. Nel corso delle ultime settimane abbiamo visionato un gran numero di documenti. Quelli che più ci stanno a cuore riguardano il modo in cui verranno attuati questi cambiamenti radicali, una volta che saranno stati ufficialmente annunciati. Abbiamo fornito i nostri consigli sulla base delle nostre specifiche esperienze, fissando inoltre una data per una completa divulgazione, momento in cui abbiamo intenzione di presentarci a voi. Nel periodo che intercorre tra l'insediamento di questo nuovo governo e la divulgazione della nostra esistenza, ci proponiamo di aumentare notevolmente gli avvistamenti diurni delle nostre navi, e di preparare quanto necessario per il giorno della comunicazione. Abbiamo seguito con molta attenzione il modo in cui questa missione è cambiata dal primo momento, che raggiungemmo il vostro Sistema Solare nell'estate dell'Anno Gregoriano del 1991. Nel corso dei successivi due decenni, abbiamo assistito al mutare di questa operazione, fino alla situazione attuale, che noi tutti ora condividiamo. In un primo momento, il Cielo ci diede una serie di direttive apparentemente ambigue, due, che poi si trasformarono in quei specifici mandati che ci permisero di interagire, non solo con gli agartiani, ma anche con un gruppo eterogeneo di umani di superficie, che noi chiamiamo i nostri alleati di Terra. Questo gruppo sembra ora essersi riconfigurato in un altro lotto di piccoli gruppi, e pertanto abbiamo scelto di concentrarci sulle Sacre Società Segrete, che fanno riferimento ai Maestri Ascesi. Queste numerose Società Sacre fanno parte da tempo di un piano globale dei Maestri Ascesi, per assistere le volontà del Cielo nel farvi tornare pienamente consapevoli. Queste Società Sacre dispongono delle necessarie risorse, finanziarie e spirituali, per portare a conclusione questo compito con successo. Insieme stiamo completando le parti finali del nostro piano comune per abbattere la cabala e liberarvi dalla inimmaginabile schiavitù, che faceva parte del Programma degli Oscuri per aggirare gli accordi messi in atto all'inizio del Regno degli Anunnaki, quasi 13 millenni fa. La Federazione Galattica sta usando le sue capacità per fermare questi piani, e inoltre, per rimuovere questi traditori in modo che non possano più interferire con il mandato divino che il Cielo ha previsto per il vostro mondo. Gaia osserva tutto questo ed è felice, sapendo che coloro che intendevano devastarla ulteriormente sono ora in procinto di ottenere la loro giusta punizione. L'ambiguo sistema economico creato da questi Oscuri per ricoprirsi di immense ricchezze ha portato il mondo sull'orlo della bancarotta. Questa struttura sarà smantellata, e una nuova fondata sulla trasparenza e sulla prosperità prenderà il suo posto. Questo progetto ha già compiuto i primi passi. Il passo successivo consisterà nell'assegnare effettivamente gli incarichi al Governo di Transizione. Vi giungano le nostre benedizioni. Noi siamo i vostri Maestri Ascesi. Veniamo nella gioia. Veniamo nella gioia. La pace e le benedizioni del Creatore stanno risplendendo su di voi. Ci avviciniamo alle mosse decisive di un finale di partita che dura da circa 13.000 anni. I nostri collaboratori sono al punto in cui una nuova realtà per tutti può essere raggiunta. I momenti successivi saranno dedicati all'epilogo che farà finalmente cadere gli oscuri dalle loro alte strutture del potere. Non spetta a voi giudicare questi uomini e queste donne degli oscuri. Lasciate questo compito sacro al cielo. Lì c'è chi osserva la vita di voi tutti, e sta valutando ciò che è adeguato per coloro che così facilmente hanno abusato di voi, e che vi hanno impedito di raggiungere il vostro pieno potenziale. Alcuni di voi, come noi, hanno raggiunto elevati gradi di consapevolezza e l'immortalità. Questo dono è pronto per essere esteso a tutti, ma prima ci dovrà essere un grande risveglio, che vi preparerà ad una nuova realtà cosmica. Sarà un grande momento dove potrete ricominciare a sostenere la vostra Madre Terra. Molto tempo fa, quando all'umanità fu per la prima volta permesso di abitare questo meraviglioso Regno, l'umanità fece un voto sacro a Gaia e alla sua gerarchia spirituale, per prendersi cura di lei, per sostenerla, e per garantire il proliferare dei suoi numerosi ecosistemi. Questo voto sta per essere ora rinnovato dall'umanità di superficie. Quando riacquisirete il vostro stato di esseri pienamente consapevoli, sarà anche il momento per rispettare e per salvare le grandi varietà di forme di vita, che condividono con voi questo mondo. Lo Spirito ha condotto molti a voi, vi consentiranno di riscoprire, chi veramente siete, per poi mostrarvi il modo migliore per far rifiorire nuovamente Gaia come accadeva in tempi lontani. Voi possedete la tecnologia e la volontà divina, che possono rapidamente modificare l'aspetto del vostro Regno. Questi saranno i vostri grandi compiti, non appena il gioco degli oscuri si sarà sollevato dalla vostra essenza. Queste sono cose che faremo insieme, rendendo questo nuovo tempo qualcosa di meraviglioso per tutti noi. Con noi, insieme, operando con le nostre famiglie spirituali e le famiglie dello spazio, ritristineremo Gaia nel Paradiso, che era una volta ai tempi di Lemuria. Noi siamo grati al Creatore, perché ci è stato concesso di far rivivere questo splendido pianeta, nel corso del nostro viaggio per manifestare la volontà del Creatore in questo aspetto della fisicità. Voi, individualmente e collettivamente, avete percepito l'immensità di quello che significa una piena consapevolezza. State per avere in dono una grande responsabilità, e questo è solo un inizio. Noi, i Maestri Ascesi, abbiamo dedicato il nostro tempo a questo immenso servizio divino, che ora sta per espandersi includendo ciascuno di voi, una volta che sarete trasformati nuovamente in esseri pienamente consapevoli. Il nostro compito consiste quindi nel sovrintendere a quello che tutti noi siamo chiamati a fare. Questi compiti sono i primi di molti altri, che porteranno alla nascita di una nuova nazione stellare, quella che porterà questa galassia in un'era di luce, di amore e di servizio al Divino. Oggi abbiamo continuato la nostra discussione al riguardo del vostro percorso verso la piena consapevolezza. Gaia è veramente pronta a trasformare se stessa in un essere pienamente consapevole. In definitiva, noi, come esseri umani, attraverso questa galassia, operiamo nel servizio divino per manifestare la magnifica bellezza del piano divino del Creatore. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che le illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gaiun. Se la matia, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003